Radio Calaritana, informazione, cultura, spiritualità. Oggi parliamo di... Salve a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana. Oggi parliamo di libri, oggi parliamo di un libro famosissimo, Fahrenheit 451, un libro che è uscito dai confini della letteratura di genere per diventare un libro, un classico. Tra l'altro è un libro che ha dato il nome a milioni di librerie in tutta Italia e in tutto il mondo. C'è un programma radio famosissimo, il pomeriggio di Radio 3 Rai, che si chiama Fahrenheit per lo stesso motivo. Per cui questo è probabilmente uno di quei libri che tutti diamo per scontatti e che invece dovremmo in qualche modo riscoprire. Ecco, è probabile anche che qualcuno di voi abbia visto la bella resa che ne ha fatto Truffaut nel film che si intitola ugualmente Fahrenheit 451 e che è un film un po' datato ma che se potete vi consiglio di recuperare. Fahrenheit 451 è stato scritto da un inglese, Ray Bradbury, un grandissimo scrittore di fantascienza che ha pubblicato diversi capolavori. Fahrenheit è comunque quello che forse gli ha dato la fama e per il quale lui è maggiormente ricordato. Una piccola spiegazione che si dà sempre sul titolo. Il Fahrenheit è un grado, un grado di temperatura, un modo di calcolare la temperatura alternativo alla scala in centesimi che utilizziamo in Italia e che è più diffuso nei paesi di lingua anglosassone. Il Fahrenheit 451 perciò è una temperatura ed è la temperatura in cui brucia la carta perché in Fahrenheit, come probabilmente sapete, i pompieri bruciano i libri. Questo è l'assunto. È chiaro che si evocano i roghi di libri delle dittature. In effetti, Fahrenheit è il tipo di romanzo, si dice come espressione tecnica, è una fantascienza distopica. Cosa vuol dire? È una fantascienza che presenta un futuro disturbante, un futuro normalmente in cui si vive male, un momento in cui la società si è evoluta verso un indirizzo dannoso per i suoi componenti. Normalmente ci sono dittature o comunque situazioni di questo genere. Forse il romanzo di fantascienza distopica più noto può essere 1984 di Orwell. Qui siamo abbastanza sulla stessa linea. Come vi dicevo, c'è una dittatura in Fahrenheit, una dittatura che per tenere meglio asserviti i suoi cittadini, ha proibito i libri e è proibito non soltanto pubblicarli, non soltanto scriverli, ma anche detenerli e tutti i libri vengono bruciati. Di fatto i libri si sono praticamente estinti. Ora, normalmente si pensa a Fahrenheit come a un inno alla letteratura. È vero, però bisogna un po' intendersi. Io per questa puntata mi sono preso la briga di rileggerlo perché l'avevo letto molti anni fa quando ero un ragazzo e non ce l'avevo fresco, non ero sicuro. Volevo parlarne, però volevo rivedere. Ho fatto in materia delle scoperte che mi hanno un po' stupito, se vogliamo, perché in realtà l'enfasi di Fahrenheit non è tanto sui libri, ma è piuttosto sulla dittatura appunto, su come il popolo può essere abbindolato, può essere sottomesso laddove le informazioni vengano sostituite, laddove non sia possibile crescere e formarsi per conto proprio, autonomamente, ma dove tutto dipende dalla televisione. Questo è un tema molto moderno. I cittadini di Fahrenheit non fanno altro che guardare la televisione su enormi schermi montati a tutta parete. All'inizio il protagonista discute con la moglie se sia possibile affrontare la spesa per montare una quarta parete nel soggiorno in modo da essere completamente circondati dalla televisione. Ed è chiaro che le persone che guardano la televisione in Fahrenheit 451 sono totalmente, totalmente istupidite. Come questo possa avvenire ve lo racconto dopo la pausa. Ho scelto per voi un brano che secondo me aveva una tinenza, ma è una tinenza più dal nome che non in realtà, perché in Fahrenheit noi parliamo di fuoco e allora ho scelto Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, Grandi Sfere di Fuoco. Cari amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Calaritana. Stavamo parlando di Fahrenheit 451, un libro di fantascienza distopica, cioè che dipinge un futuro allarmante, preoccupante, un futuro in cui una dittatura si è affermata principalmente proibendo i libri, proibendo ai cittadini di formarsi un'opinione autonoma, ma invece imbottendoli di stupidaggini attraverso la televisione. Ognuno di voi potrà volendo fare i suoi riferimenti al presente, se vuole. Però mi preme anche sottolineare che la fantascienza ha sempre questa grande capacità, anche se scritta ormai qualche decennio fa, come nel caso di Fahrenheit 451, ed è la capacità di illuminare il presente, facendo vedere come, cambiando poche premesse, il mondo potrebbe andare in un modo o in un altro. E perciò, leggendo quella fantascienza, quelle realtà alternative, noi siamo portati a riflettere sulla nostra realtà. Questa è una capacità grandissima che ha la fantascienza e che invece, per esempio, non è nel fantasy, che è scritto e ha altri scopi e che porta altri benefici o induce ad altre riflessioni. Però vi stavo raccontando di questa dittatura di Fahrenheit, che noi vediamo attraverso principalmente gli occhi di un pompiere, nella finzione i pompieri si sono evoluti come un corpo che non è addetto allo spegnimento degli incendi, ma è piuttosto un corpo di polizia autoritario che brucia libri e case di coloro che possiedono i libri. Vanno con lanciafiamme e demoliscono tutto. Questo pompiere, che è un fedelissimo, che è sempre stato esemplare nel suo servizio nei confronti della dittatura, a un certo punto comincia a dubitare. Prima per piccoli eventi, sono piccole crepe nella sua sicurezza, poi a un certo punto la sua, direi, disperazione esistenziale prende il sopravvento e esplode. Tanto che è incapace di rispettare le regole di prudenza a cui altri resistenti, altre persone che leggo in libri vorrebbero indurlo, e invece commette degli errori, proprio perché ha l'ansia di confrontarsi, ha l'ansia di dire ai suoi concittadini, alla moglie in particolare, ma non capite, non vi rendete conto di quello che sta succedendo. Sente quasi il bisogno di urlarlo. E questo, naturalmente, fa precipitare gli eventi. Non vi svelo, naturalmente, il finale, ma in realtà Fahrenheit non è tanto un libro in cui conti la trama. Certo, conta ed è importante. Quello che conta è l'evoluzione della coscienza del protagonista, la sua capacità di arrivare a una scelta che, alla fine, è una scelta etica e morale. Il tutto è trattato in una maniera esemplare da Bradbury, che è capace di non dire mai, ma di far vedere. Questa è una grande regola della fantascienza. mostrare, non raccontare. Altrimenti si diventa noiosi, si diventa pesanti, si diventa declamatori. Per esempio, è bellissimo il dialogo iniziale. Il pompiere sta tornando a casa contro una ragazzina che lo accompagna e la ragazzina ingenua gli chiede «Ma senti, ho sentito dire che un tempo i pompieri spegnevano gli incendi perché le case bruciavano». E il pompiere dice «Ma che scemenza e dici, quando mai le case bruciavano?» Lo sanno tutti che le case non bruciano. E la ragazzina risponde «Ma non so, mi sembra di averlo sentito dire una volta». Il lettore dice «Come mi sembra di averlo sentito dire?» «Possibile che ci saranno dei documentari, dei libri, appunto, che dicono che i pompieri un tempo, ammettiamo anche che adesso le case non bruciano più, ma che un tempo c'erano gli incendi». No, in realtà no, ma questo tarlo viene messo al lettore che si allarma, si chiede «Ma cosa sta succedendo qui?» e man mano scopre le cose, semplicemente osservando ciò che accade al pompiere, ai suoi amici, ai suoi parenti, alla moglie in particolare, e così via. Un trattamento della materia esemplare che anche per questo Fahrenheit è diventato un vero e proprio classico della fantascienza. Bene, credo che siamo grossomodo arrivati alla fine. Io vorrei intanto salutarvi, darvi appuntamento alla settimana prossima, in cui parleremo di robot, finalmente. affrontiamo un altro classico della fantascienza attraverso i libri di Isaac Asimov e vi ricordo che oggi parliamo di libri, va in onda ogni giovedì alle 19.10 e in replica il Verdi alle 8 e mezza del mattino. Da Roberto Seda, grazie di avermi seguito, spero che facciate buone letture questa settimana, ci sentiamo tra sette giorni. Arrivederci. Radio Calaritana Informazione, cultura, spiritualità